oh papi stai a piano no? oh papi stai a piano no? ciao ragazzi bel giro in montagna oggi pedalato sempre quasi sempre in eco qualche volta messa trail con lo shimano batteria da 500 1500 metri dislivello mi son fatto il culo però bello bello sofferenza non finisce mai due belle discese un po di capriole un po di sassi bello abbiamo provato la dissector della maxis 29 2.4 dh casing 29 direi che è ottima provata sui sassi bella rigida come spalla spettacolare ovviamente di h casing secondo me impressioni ottime due tre uscite che ci faccio vari terreni per me è una delle migliori gomme fino adesso posteriori che ho usato davanti adesso un minion double down dhf 2.5 vorrei provare il 2.4 ma appena ho modo lo monto secondo me la sezione ideale per le 29 2.4 dietro 2.5 o 2.4 avanti non più grosso perché sennò si perde la guida della bici non sia più la bici in mano secondo me sempre parere personale iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima prova ciao un bel gruppetto abbiamo fatto la discesa dei terribili che è tutta su quel trenale lì e ci vediamo la prossima Sì Sì Allora stai scassata eh Un po' di rovinata Sì Però Sto andando giù belli tranquilli Non ci sono grossi problemi Fa più pressione che l'altro Bella Bellissimo 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 Allora vediamo Com'è Lui è stato in un passo Poi E Allora 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 Eh Si è rovinata tutta La linea del bar Questa qui è Guardala Fai Sì 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 Se ne andate dovevi passare No Io che ne vado la pista Eh No Era questa la sfida della G30 Grazie. 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 Guarda, eccolo. Ho capito.